L'intero processo è iniziato con il siero Lazarus. L'obiettivo qui è riportare in vita una persona morta. 3, 2, 1... Zoe! È morta! Non la perderò. Pensi di riuscire a riportarla in vita? Sono morta. Quella non è Zoe. Non hai idea di quello che avete fatto? Ma l'avrai. The Lazarus Effect al cinema.